Il sindaco di Ponte Cagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, chiude il cerchio intorno alla giunta. Gli incontri bilaterali degli ultimi giorni fra il primo cittadino e le cinque forze di maggioranza hanno permesso di sciogliere gli ultimi nodi relativi ai nomi degli assessori. Il vice sindaco sarà Michele Di Muro, noto cardiologo ed ex assessore al comune di Giffoni Sei Casali, candidato alle ultime elezioni con Campania Libera. Certo anche l'ingresso in giunta di Adele Trigiano, che entrerà in quota insieme. In lizza per un posto nell'esecutivo ci sono anche Raffaele Sica, che entrerebbe in quota Energie, e Francesco Fusco, consigliere più votato della lista PD con 377 voti.